Ciao! Ciao ragazzi! Un video oggi Siamo... ...na... ...due! Che sa... Che sa... Che sa sa... Che sa sa... Allora, signori! Andiamo a vedere ancora i giochi che sono usciti Vediamo l'amico se ce la fa a ridugare i giochi che sono usciti Ok? Andiamo a vedere Che ricordi i giochi? Ah! Bobbela! E' vero? No! Allora, andiamo a vedere Allora, YouTube Il mio porto Allora Allora Vediamo che se ricorda che ho una volta Allora Allora Eeeeh Yeah, mi apre lì ché No 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 assento me la madre no e bologna e non non ho spiccago ma com ma com ma io no non l'ai proprio io e qui eccoci e ci ritroviamo a andare a fare la madre no? eh? ok la con la mamma chlaku no? no 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 a io mi chiamo che qui? oh che è eh che è? che è? che è? che è? che è prima ok Oddio! Bello! Si compramo? Si compramo? Si compramo? Si compramo? No, no, e non c'è la sua PS4! Bello! Bello! Si compramo? Si compramo? Si compramo? Si compramo? Si compramo? Si compramo? Bello che mangi io! Con secchino, bello! Si! Si vuoi imparare anche le macchine con secchino? Si! E' tipo CTA! Aia! Ha 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 ha! Ha 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 ha! E' tipo CTA! Questa è bella, bello! Gli temi a due! Qui lo vado? Si! che che io li ho fai sentito che ti ho vanno a guarda ah bu voglio a chi è che è? no io non manchino scusa un attimo pronti dimmi tutto che? sa giocare chi sa vincere? io sono la massima per il computer si? si aspetta eh si 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 venga bre che fai video vaffanculo è a juve no no non posso no quando fai video mi chiamami madre mi chiamami madre dai lascia la scuola lascia 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 no poi dopo sapi con me dai 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 oh brandon ah senti bre mi chiamami quando mi chiamami quando mi chiamami adesso fai video con bre dai dimmi domani mattina si ancora si ok ciao a domani che è bello diciamo diciamo c'era come mi sa appresa ma io diciamo no 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 dopo sapi con me venga oh un quattro due che ho quale modo vado ma si compralo qui qui è adoro come cosa compralo non posso adoro ha ne vado Allora Poi cominciamo a volare E' volato il giotto Il giotto? E' un po' Questo è volato un po'? I quattro figo Che c'è adesso? Che c'è adesso? La tornino Anche la caccolò Questa c'è la caccolò in pizzo ce la calcola in pizzo? no no ce la calcola in pizzo ce la qua compratelo no bra tu devi comprare no no e che altro bra compratelo 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 questo è bello no apratelo questo è gagliato no no apratelo no apratelo prendo il pc me lo pongo compratelo me lo vado a cagliare no apratelo no apratelo come sto facendo agio e cosa ti portare al raffinale eh ma fra compratelo qui ce l'avevo raffinato sicuro si pochino agio eh guarda quello giuda no no compratelo compratelo no 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 compratelo ma che sta facendo ma che sta facendo la mano no guarda quindi ci vediamo un po' no apratelo 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 no apratelo apratelo americ Haben apratelo ma che cacchio d'oro si ma che cacchio d'oro si metto ciò io voglio troppo solo nooo non sapevare andiamo a vedere questo è bello questo l'ho finito 1 questo è bello ho finito Assassin's Creed variation e Assassin's Creed 2 questo è bello è una città si questo si io ci ho giocato è bello si e non posso aia 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 fizzato aia aia crazy no 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 raga eh metto da questi frate no 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 fra mettete gta 6 è meglio ma non mettete i miei giochi no 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 giochi belli ma non questo no no mettete i giochi mettete i giochi mettete i giochi no fra dai che bello fra dai che bello fammelo vedere 1 di 3 1 dai 1 12 che è? no fra no che è? chissà 2 no fra vedi un po che è? oh ma come devo capire che è? che è? che è? ho bisogno che conosco conosci ma che è? ma che è? oddio afra che è successo? afra ho conosco oddio c'era il vostro ps4 ps4 eh? è lui e lui e lui e lui e lui e lui e lui qui c'era un piozzo qui c'era altro e lui e lui e lui E' lui Passatevi che nome E' lui che farà E' lui Oh Guarda che io E' lui E' lui Dieci No no la farà No 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 la farà Che peccato Non vedere i video qua Che peccato Che peccato Perché non sento che bello E' quello eh Sai dico Non sento che bello Non sento che bello Non sento che bello No raga Non capite Che peccato non fare i video qua Sì No raga Nove Nove 39 39 45 42 43 43 43 44 24 44 75 45 45 46 45 45 46 47 48 48 48 48 48 49 49 49 49 50 56 48 49 49 49 57 41 51 50 413 ha vinto l'ultimo ha vinto no è che mi piace lo metti? troppo bravo no ragazzi fanno uscire fa una parte in si io me ne vado otto no 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 dai perchè mi... no 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 afra eh questo è bello questo è bello afra questo è bello questo è bello afra questo è bello questo è bello afra no afra avra dov'è qui finiamo non è bello perché ii non è bello che sta non, dai qualà? qualà? non, non, è il calo non, non, non dai, dai, oh no, non, 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 non è finito! no no non è finito! no 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 non è finito! allora se lo vedi che sono il margine! sei? dove la cazzo? sei? oddio! no a tra! no a tra! e qua! a tra un grosso! questo è bello! no a tra! non è finito! oddio! sono giocato! sono giocato! sono bello! guarda fra! guarda! in minuto siamo? ma no! non c'è una saccagliana! non c'è una saccagliana! non c'è una saccagliana! non c'è una saccagliana! con le tue mani! 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 no a fra! oddio! a fra! guarda! mamma mia bello povero! che grosso! quando è a mazza quello? è morto! è morto! eccolo! no a fra! lo so! questi sono belli! che per caro! non mi gira a piccino! non si gira? eh no! come lo provo! lo caricavo! non a fra! è bello questo! è una cifra! è bello si! e quando... quando hai visto i sogni? ah non lo so! no a fra! a fra! a fra! a fra vi è qua! cinque! no a fra! no a fra! eccolo! ecco è lui! 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 dragonborn! si! è lui! la rudo! eeeh... sa come è seguiti? si! beh c'è bello! è bella cifra! c'è bella! cazzo no! no a caso! un dragonborn! dragon! no! no! no a fra! che cosa cazzo! no! no! no no! no ragazzi! che ide! che ide! la mia voce non puoi capare! a che vuoi capare! eh ma non ti riesco a capare! no ragazzi! se non si sono belli! so scrive belli povero so scrive belli 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 no io non ce la faccio a parlare non ce la faccio no non ce la cambiare a mano come fai a parlare? hai scrigliato a cosa? come fai? non fai no guardi che pericolaci già fai eh un punto a guardare che non so quattro oddio oh allora c'è quella termina oh e tu è un figlio si no no afra 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 no ci vedo ci vedo tu lo taglio perchè è piccato no afra afra sei stata zitta un po' congiunga si senti male no riga si senti la voce di russare si parla si senti male di sti video no riga è qualcosa che mi è finito non lo so si quasi ma no riga a me mi sta ben infatto a me mi sta ben infatto a me mi sta ben infatto dentro a letto ci voglia fra allora andai quelli sono picchiati no no afra questo compitelo non che cosa ha detto che cosa ha detto che cosa ha detto che fai avevo un torta tre poi dopo sta bene no afra no no e lui e lui afra è adesiva è lui afra si il ninja si no afra è lui afra no è lui è lui è lui è lui è lui è lui non ho capito che mi ha fatto oddio no afra è lui no afra è lui è lui si aspetta si è lui afra è lui comprimi io comprimi io comprimi io 5 dai io è lui è lui è lui dai io che pettano due due non afra è afra oddio non ce l'ho che cos'è non lo so non lo so non lo so sei è quel nome nuovo non afra afra mi ha fatto infatto afra non trovo finito 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 fa finito aro 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 eh oddio aro no aro inferno no no afra eh eh sono belli Sì, sì. Ah, è lui! È lui! È lui! Ah, donna! È lui! No, ragazzi! Allora! Fermiamo qua! Perché io... Io e lui... cerchiamo... cerchiamo col cuore! Vero? Ah, madonna! Ragazzi, cerchiamo il video qua e... è stato bello la nostra reazione di... così diciamo... È stato bello, sì! Regà, io cerchiamo il cuore... non mi regge più! Ah, mamma mia, a me mi sta niente! Allora! Poi andiamo a vedere... i video... quando succedono i nuovi giochi... qua ho... io... sono a Roma... A Roma? Ehm... Poi andiamo a vedere... quello qua... Cop... vabbè... subiamo al prossimo video... Bella! Bella! Allora! Allora!